Ciao a tutti da Saludatori, grandissima sorpresa, mi trovo qui con Simone, un saluto a tutti i tifosi del Cagliari, un saluto a Luca Cocco di Ardauli, un saluto a tutti e forza Casteldu, io sono della Roma però sempre è meglio il far play, io auguro un parice per il far play, poi vi incalmi pure, ci sta, ti ringrazio, auguri e una sorpresa per te, la manina del Saludatore, ecco, te la regalo, ciao, grazie, ciao.